Il ciclo fa malissimo, fare l'amore è un tormento, nessuno mi crede, seduta sulle spine, mi trattano come una pazza, sogno solo un giorno senza dolore, psicofarmaci, solitudine, licenziata, alla fine qualcuno ha capito e mi ha curato davvero. Poi sei arrivata tu, tesoro mio. Non era nevrosi, era endometriosi. L'endometriosi si può combattere, ma non aspettare.